Bene ragazzi, bentornati nel mio canale. Sono Daniele e oggi voglio condividere con te quattro oggetti da vendere subito per fare profitto in dropshipping su ebay. Inoltre, se non mi conosci, sono Daniele e sono l'unico che ti parla di dropshipping su ebay in Italia e in generale su come fare soldi online, per davvero. Quindi, resta con me. Bene ragazzi, eccoci qua. Come sapete, io faccio una volta a mese un video dove do quattro prodotti così gratis a voi da poter vendere che sono comprovati con ricerca del mercato fatta da me stesso negli anni. Quindi sono prodotti che ho già venduto, che vendo e che vendono più o meno sempre, stagionalmente. Quindi i prodotti che vedete in questo video sono fatti per vendere ora, sul momento, nel prossimo mese e nei prossimi due mesi. Quindi, se utilizzerete questi prodotti nel vostro negozio di dropshipping o su Amazon o su Shopify, se preferite Shopify, è quasi sicuro che riuscirete a venderli. Quindi, come trovo questi prodotti? Ragazzi, questi prodotti vengono trovati con la ricerca del mercato, che non sono, che la ricerca del mercato non è quella dove utilizzi software per trovare. Sì, i software possono servire, però quello che io dico sempre e voglio che vi rimane in testa è che la ricerca del mercato è fatta nel... Cioè, cosa significa cercare di cercare nel mercato? Significa trovare prodotti che le persone vogliono comprare in questo esatto momento storico o in questa stagione perché hanno una necessità o perché c'è una tendenza. Ricerca del mercato significa questo. Come si fa? Qual è la migliore ricerca del mercato? La migliore ricerca del mercato si fa con la testa, ragazzi, pensando al periodo e a cosa può servire alle persone. Perché se il programma, vuoi utilizzare qualche programma di ricerca del prodotto, vi dà che c'è un prodotto hot, in inglese si dice caldo, perché ha venduto 50.000 unità l'anno scorso, ma poi le ha vendute tutte da ottobre a dicembre perché erano dei guanti da neve, e ora siamo a marzo, è ovvio che non servirà a quel prodotto, è ovvio che non è una ricerca del mercato. Quindi bisogna innanzitutto pensare, bisogna riflettere e perché no, bisogna anche informarsi con chi sia accanto, tra amici, persone, sulle loro necessità. Questi prodotti, che io vi dico, sono comprovati dalle vendite dei miei negozi ebay negli anni, chi non lo sapesse, mi occupo di ebay automatico, dropshipping su ebay in maniera automatizzata, potete trovare tanti video sul canale se vi interessa la questione, o potete andare su dropshipping chilometri zero, dove ne parlo, dove spiego tutto nel dettaglio. Ma non perdiamo più tempo, quali sono questi prodotti? Allora ragazzi, il primo prodotto, guarda gli appunti, perché se non lo sapete faccio questi video io così, di getto, non me li segno, penso e faccio. Tra l'altro diffidate da quelli che mettono troppi tagli, che non fanno i video di getto, perché se uno sa cosa dire, non c'è bisogno di far tagli, non c'è bisogno di si costruisce una scaletta troppo dettagliata. Detto questo ragazzi, i primi oggetti, che poi non è un oggetto, è un set di oggetti, si tratta degli accessori da esterno dal giardino. Ora facciamo anche qualche esempio per capire. Ovviamente sta arrivando la primavera, l'estate è un po' lontana, ma arriva la primavera, e quindi gli accessori da esterno, le persone cominciano a pulire i giardini, cominciano a pulire le terrazze, e quindi hanno bisogno di un po' tutti i prodotti da esterno. Per esempio, tutte le accessorie per le piante, per gli alberi, vendono un sacco in questo periodo, venderanno per i prossimi mesi. Set da tavolo, da divano, tra l'altro prodotti high ticket, prodotti che vendono a prezzo alto, serviranno un sacco perché le persone si sistemano il giardino, si sistemano la terrazza. Sedia sdraio, un po' tutto quello di qua, ombrelloni, vendono molto. Guanti, i guanti che si utilizzano in giardino per il giardinaggio, quelli vendono tantissimo. Ovviamente è un prodotto che costa un po' poco, però siamo intorno ai 20-25 euro, se riuscite ad avere un ottimo margine e un ottimo canale di vendita, potrete fare molto profitto anche su questi prodotti. Tranne che, poi vendete solo prodotti high ticket, come divani, sedia sdraio, e vi assicuro che tutto quello che riguarda gli accessori esterni, che riguarda il giardino, vende. Ovviamente non riguardando il giardino e gli accessori esterni di questo periodo, non luci di Natale, o alberi di Natale, neanche se sono da esterno, non c'entrò niente con il periodo. Quindi, ovviamente, dovete andare a trovare prodotti in area per il periodo. Il secondo set di prodotti, che poi è sempre correlato al giardino, ma non direttamente, si tratta di accessori per barbecue. Grazie, se voi andate, per esempio, su Amazon e cercate accessori per barbecue, troverete un zappo di valigie set da barbecue, da cucina, no? Che però sono utilizzati solo per l'esterno. Solitamente hanno un prezzo a dettaglio che va dai 30 agli 80 euro, e vi assicuro che vendono tantissimo. Questo è anche un ottimo prodotto, se vendete Shopify, potete utilizzare su Shopify, vendete molto anche su eBay, però se utilizzate prodotti di alti margini, potete anche combattere su Shopify, e avrete un bel ritorno. Assicuratevi, ovviamente, di avere un margine adeguato, se andate su Shopify, se non avete almeno il 60-70% di margine, levateci mano, non è un prodotto da Shopify. Su eBay potete giocare con immagini, perché come saprete, se mi seguite, su eBay si può stare a margine anche più basse, perché è un processo automatico, e si va di volume, si va di traffico gratuito, quindi è tutta altra storia. Ma non è questo il video per approfondire l'argomento. Un altro prodotto, ragazzi, sono gli accessori per motociclette. Ovviamente ora arriva la primavera, le persone stanno già spolverando le loro motociclette, sono pronte per andare in strada con le motociclette, con i motorini. E tra l'altro ci sono molti accessori ai ticket, diciamo, correlati alle motociclette. Per esempio, potete utilizzare, ora mi viene il nome, sono delle cuffie fatte per la moto, in cui si può comunicare fra due moto diverse. Cioè, vengono vendute a sette le due, quindi io sto guidando la moto, me lo metto uno, c'è la mia compagna o qualcun altro che guida la moto, si mette l'altro e possiamo comunicare. Solitamente questi hanno un prezzo abbastanza elevato, dai 250 ai 400 euro, e vendono davvero bene, specialmente se è vendito in America. In Italia vendono, ma non molto, però se vendete in America vendono tantissimo. Gli americani sono più portati a uscire 400-500 euro, scusate, dollari, per questo genere di articoli, e potete avere un bel margine, perché potete trovare dei fornitori a metà prezzo e ricalarci un bel profitto, perché ovviamente se comprate a 200, vendete a 500, togliendo le spese, resta un buon profitto. Altri accessori per la motocicletta possono essere caschi, coperture per moto, catene, tutto quello che riguarda le moto ragazzi venderà davvero molto. Da qui ad aprile più o meno vende tutto. Quindi è una categoria che personalmente mi piace molto, tra l'altro poi quando passa il periodo delle moto comincia il periodo delle auto a settembre, ma ci arriveremo. E' una categoria che mi piace molto, perché chi ha una moto solitamente spende soldi, non gli interessa perché stiamo parlando di articoli che sono anche un po' a vista, no? Quindi per il tasco le persone spendono di più, per le catene spendono di più perché vogliono che la loro motocicletta sia sicuro. Diciamo che tutto quello che è correlato alle moto, anche alle auto, però alle moto particolarmente perché gli appassionati di moto sono più di nicchia rispetto alle auto. Quindi tutto quello che è correlato alle moto vende davvero bene e vende soprattutto a prezzi molto alti, potete immaginare, molto bene. E' un'ottima categoria. Passiamo all'ultimo articolo di oggi, ragazzi, che poi è un set di articoli, tra l'altro credo di averlo già detto per lo scorso video, ma siccome è valido ancora e sarà valido ancora per molto, si tratta degli articoli sportivi. Ragazzi, sono passate tutte le feste, si fa per dire, poi c'è Carnevale, c'è Pasqua, vabbè, sono passate diciamo le feste più importanti dell'anno e le persone già mentalmente sono proiettate nell'estate e quindi con le palestre chiuse, tra l'altro, si alza la domanda, a breve si cominceranno a vendere tantissimi articoli sportivi. Pesi, fasce, le fasce soprattutto si vendono un sacco su ebay. Panche, ciclette, quell'altro le ciclette è un ottimo articolo perché sono in pochi che le dropshippano e le persone le comprano perché gli piacciono le ciclette da tenere a casa e spendono perché una ciclette costa, va dai 200 ai 600 euro in base al tipo di ciclette che volete vendere. Si vendono più dei tapistro lamp perché le ciclette sono più semplici da utilizzare quindi la persona media, un po' pigra, che dice vabbè metto davanti la tv nel frattempo faccio ciclette la comprerà di più rispetto al tapistro lamp. Quindi è un prodotto che vende tantissimo, la ciclette. Ve lo consiglio, io le ho vendute, forse ancora le vendo, non mi ricordo se ne ho ancora nei negozi, però le ho vendute, vendono davvero bene. E soprattutto fate buon margine. E poi tutto quello che è correlato agli articoli sportivi. Questo ragazzi sono i miei 4 articoli per voi oggi. E ovviamente ragazzi vi ho dato più che specifici articoli in questo video, vi ho parlato di nicchie, l'ho fatto di proposito perché ci sono così tanti articoli che potrei vendere ora in questo periodo che sarebbe non completo il video se mettessi solo 4 articoli precisi, che poi non è nemmeno il video che fanno su Shopify, 4 articoli da vendere ora, ragazzi quando fanno questi video vi posso garantire che sono articoli che non vendono, sono articoli che vendevano prima e che non vendono più. Questo è il problema di Shopify, che metti un articolo e dopo 2 mesi non ti vende più. Rispetto a eBay quando puoi creare un vero centro commerciale con migliaia di articoli, voi pensate un po' a Mediawort, ok? Voi pensate che Mediawort vende un prodotto, gli interessa davvero se un prodotto vende o non vende, se vende ora, vende tra un mese? No, non si può far vivere con un prodotto. Io non lo so perché c'è questa convinzione che si può sopravvivere con un prodotto. Bisogna avere ragazzi tanti prodotti, diventare un centro commerciale per il lungo termine, perché qualsiasi store, qualsiasi negozio utilizzato a monoprodotto vi posso garantire che non dura. Non c'è nessun prodotto che dura in eterno, in qualsiasi categoria. Dovete creare, poi se volete fare una sola nicchia, non importa, però dovete essere multiprodotto. E multiprodotto non significa uno, due prodotti. Multiprodotto significa centinaia di prodotti. Questo in qualsiasi piattaforma, anche Shopify, Shopify, eBay, Amazon, non importa. Dovete trattare molti prodotti. Immaginate un cliente che viene nel vostro sito, ok? O nel vostro negozio. Vede che avete questo microfono. Dice, bello, allora lo compro, è sempre affidabile. Vediamo questo brand, questa azienda, che altro ha da vendere. E non c'è niente. Cioè, ragazzi, state lasciando soldi nel pavimento. Una persona che viene nel vostro negozio e può comprare un solo prodotto, magari è ispirata di fiducia, gli ispirate fiducia, il vostro posizionamento è stato fatto correttamente, non ha nient'altro da comprare. Come realità i soldi? Come fa a pagarvi di più? Non può. Cioè, già questo dovrebbe bastare. Poi dobbiamo andare a prendere un'altra parte della medaglia. Una persona che viene nel vostro negozio, trova un monoprodotto, ovviamente viene dissuasata a comprare, perché dice, perché sto negozio, quest'azienda ha un solo prodotto? Che azienda, ovviamente non è un'azienda, ovviamente non è un negozio, è qualcuno che gioca su Shopify, ma capirete, cioè, voi andreste in un centro commerciale, andreste in un negozio che ha un solo prodotto, di una sola variante, di un solo colore, di un solo modello? Cioè, cosa fareste? Entrereste? Sono sicuro di uscire? Anche se fosse il prodotto migliore al mondo, uscireste subito. Perché non ispira fiducia, ragazzi? L'online è semplicemente una proiezione virtuale dell'offline, ma non cambia niente. I comportamenti umani sono più o meno identici all'offline. Quindi, se volete costruire un negozio, se volete costruire un marchio a lungo termine, vi dovete comportare come vi comportereste offline. Semplicemente è tutto più, come si dice, più ingrandito online. Avete molto più probabilità, però le dovete sapere togliere. Detto questo, ragazzi, non dimenticate di iscrivervi, di mettere like, e di seguirmi, perché molte, molte novità arriveranno in questo canale, e molti nuovi video interessanti arriveranno, e che sono sicuro vi aiuteranno nel business. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao!